Una serata al Savioli era per tutti una serata importante ed era come un carnevale continuo, insomma uno aveva una scelta enorme. Riccione è nata come località turistica, costruita dai turisti e da quei pochi licionesi che avevano capito che cosa sarebbe successo. Quando veniva a Riccione, Mussolini che arrivava con l'idrovolante, che ammarava in mare, tutta la gente che c'era a Riccione, riccionesi, lo andavano a prendere con un moscone, lo portavano lì a riva e loro di qua e di là la gente si montavano a scopo. Cosa delle facce aveva un grosso gesto della faccia di Mussolini sul primo piano. Allora lì io passavo in bicicletta, mi sono fermato e lì tiravano giù la testa di Mussolini. Noi abbiamo fatto 17 anni di partecipazione al carnevale di Düsseldorf con il nostro carro. quando c'era la sfilata. Und jetzt kommt Riccione! Und vergessen Sie nicht, dass der nächste Sommer kommt bestimmt. E ricordatevi bene che la prossima estate viene sicuramente, quindi non dimenticate Riccione. Riccione per me è tutto, è la città più bella del mondo. Questi due spazi, la terra e il mare, li vicini, per me sono molto importanti, insomma. Da questo senso di apertura, come è aperta Riccione a tutto, insomma. Riccione per me è tutto, è la città più bella del mondo.